una giornata super cup los tiburones contro new generation romano romano fabbri fabrizio quanto state? 3 a 0 per voi e come si è sbloccata? siamo 3 a 0? 4 a 0 si è sbloccata nel finale la partita perché io sono andato via tipo solo 0 a 0 che è successo? come è andata? si è stato un primo tempo abbastanza diciamo semplice anche le condizioni climatiche potevano metterci in difficoltà però nel finale siamo riusciti a sbloccare le borracce sarebbe un argomento fondamentale sono state proposte nel De Plein per poi essere finite nel nulla dopo i giardini pensili di Babilonia un nuovo mistero e allora adesso aspettiamo il secondo tempo per chiudere questa partita vogliamo fare il più gol possibile grazie salve 4 a 0? come è possibile 4 a 0? vabbè, fa niente, recupereremo recuperate in bocca al lupo siamo qui con Di Prisco migliore in campo nella partita tra new generation e lost tiburones 16 a 0 il risultato 4 gol di Prisco perchè è migliore in campo di Prisco? correntini uomo assist penso perchè comunque abbiamo fatto tutti quanti una grande prova non ero solo io spero anche Masi ha fatto 5 gol quindi sei è stato un grande ci tiene a dirlo non fa niente come al solito è stato straordinario però penso per una prova comunque a tutto campo anche assist eccetera siamo a due vittorie consecutive di Prisco forse avete intrapeso di nuovo il cammino lasciato dalla... non si è mai fermato non si è mai fermato sicuramente puntiamo anche questa nuova vittoria dobbiamo ancora vedere con i più forti sarà dubbio una dedica da Andrea Di Prisco personale vi vuoi dedicare i gol? a lui, a lui non lo so, a mio padre vi dedico va bene, va bene un grande tifoso alla prossima allora, ciao